Oddio che cazzo di copriccola, matto il matito di casa matita, senza che dica mi manca la figa e mi viene a prender questo... si, cammina e che cazzo e c'è Martina, gentile, più bravo wwe 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 pareci non già sta e poi mi vengono a far entrare nella storina quella che tu dicevi essere a senso unico poi incontro umano e io dico ma guarda che se stai... guarda che stai ma a me c'è vieni ma che fai vieni ma che fai vieni ma che fai ma almeno una tertuccia ma che fai non è un gioco non può stare bene invece sale un po' si vieni ma che fai ah il tennino c'era scritto che per avere quegli famosi tutta una foto ai 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 i miei da domini di questi facciano ancora e noi